Ma guarda, noi siamo, io, Cicci Rossini, i miei compagni, siamo molto legati a questa terra di Calabria per più motivi, perché è comunque parte di noi, di un antico regno delle due Sicilie cosiddetto, che continuiamo a pensare che fu un regno in un momento molto storicamente importante e quindi per questo ci sentiamo di desiderare una forte rinascita di queste terre, dalla Campania alla Punta dello Stivale e per questo siamo impegnati in una diffusione di una cultura che in qualche modo è certamente non facile, ma è certamente una cultura che ci porta a determinare finalmente che siamo sicuramente i primi in Europa, da un punto di vista culturale, dobbiamo esserne fieri e certi. Noi raccontiamo non tanto il Sud, ma vogliamo che il Sud cresca in virtù di una cultura, se noi guardiamo la letteratura, la cultura italiana, la politica italiana, vediamo che tanti autori, tante personalità politiche sono nate e cresciute nel Sud e hanno rappresentato l'Italia e ora questo Sud comunque è la parte d'Italia, diciamo così, meno rappresentata e meno consapevole della propria forza culturale. Quindi questo è quello che noi ci spinge a fare tutto questo in queste terre, in questo territorio.